Buonasera, una delle principali cause di inserimento in lista d'attesa per un trapianto di fegato è la cirrose epatica dovuta all'infezione da virus dell'epatite C. Oggi, grazie all'avvento dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta, è possibile però eliminare il virus con successo. Un risultato straordinario che ha come effetto indiretto non solo la guarigione dell'epatite, ma anche l'uscita dalle liste d'attesa per un trapianto. Ad affermarlo è uno studio italiano presentato nei giorni scorsi ad Amsterdam, nel corso dell'International Liver Congress, l'annuale appuntamento internazionale dedicato alle malattie del fegato. I risultati non ammettono repliche. Quasi il 30% delle persone in attesa di trapianto escono dalla lista per effetti dei nuovi farmaci contro il virus dell'epatite C. Con l'avvento di farmaci antivirali è possibile in soli tre mesi eliminare il virus in oltre il 97% dei casi. Un dato importante se si pensa che l'epatite C in forma cronica può portare su lungo termine alla perdita di funzione epatica per cirrosi e a cancro del fegato. Non solo, a differenza di quanto si possa pensare alla malattia causando un'infiammazione cronica, può peggiorare anche altre patologie presenti nella persona, come esempio diabete e ipertensione. Nel nostro Paese si stima che il 60% dei mille più trapianti di fegato che si effettuano ogni anno siano causati al virus C. L'analisi condotta su 142 pazienti in lista per ricevere un fegato nuovo ha mostrato che in seguito ai decisi miglioramenti dovuti al trattamento con i nuovi antivirali in commercio, per 38 persone pensate, 38 persone il trapianto non era più necessario.